Un tavolo di confronto convocato in prefettura Barletta tra i vari attori in campo, il sindaco di Margherita di Savoia Paolo Marrano, l'azienda Tisale e i sindacati RSU lavoratori nel luogo di lavoro di CGL Cisle Will. Un incontro urgente per cercare di rintracciare una soluzione alla delicata questione della sospensione e del funzionamento degli impianti di essiccazione e impacchettamento imposta dalla provincia di Barletta-Andreatrani all'azienda Tisale di Margherita di Savoia e al conseguente futuro incerto e imbilico che ora preoccupa sempre più i 120 lavoratori dipendenti dell'azienda. Si tratta di un provvedimento scaturito a seguito del verbale e dei tecnici dell'ARPA Puglia che nel sopralluogo dello scorso 17 gennaio hanno riscontrato non conformità relative allo stato di manutenzione degli impianti, all'atto autorizzativo, alle emissioni di polvere in atmosfera, allo scarico delle acque a reflu e industriali e alle emissioni acustiche ambientali, delle criticità che erano state già individuate dal 2014. Io mi auguro che a Tisale che avrebbe dovuto già intervenire dal 2014 in poi, finalmente anche se in concordato preventivo, ma a Tisale debba in qualche modo provvedere con immediatezza alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quegli impianti, sì da ottenere un duplice risultato. Uno è quello di far rientrare le maentranze al lavoro e l'altro soprattutto è quello di mettere al sicuro la popolazione che Ivi risiede da possibili complicazioni anche a livello salute. Quella di a Tisale è una realtà produttiva importante per il territorio. Ora occorre mettere in campo la soluzione per cercare sia di salvaguardare l'ambiente che di tutelare il lavoro. Noi siamo preoccupati perché praticamente chiudere lo stabilimento di a Tisale in Margherita di Savoia significa mettere 120 unità fuori, compreso poi il danno sociale che si va a creare tutto l'indotto, perché la salina di Margherita di Savoia è il motore economico di Margherita di Savoia. Ci auspichiamo che ARPA ritiri quel provvedimento, che la salina di Margherita riprenda il suo ritmo di lavoro quotidiano e che tutti gli operai abbiano quella calma sociale che dal 2015 si è persa per via di questo concordato preventivo.